C'è un'invasione di scheletri Ci hanno totalmente invasi, ucciso Aiutami Allora, li picchio, li picchio a mani nude Come i veri guerrieri Sì, ma non li andare in mezzo Adesso, come si fa la can... Ci piove in casa Mi sono dimenticato questo dettaglio Di mettere l'acqua sopra il tetto Ci piove in casa Ehi ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef E qui se ti giochiamo a Minecraft Siamo tornati sulla Skyground Ragazzi, ora si inizia a far sul serio Credo che abbiamo la prima missione realmente difficile Ovvero quella di cucinare un pesce Dovremmo cucinarci una piscina Ma prima... Cucinarci una piscina? E vabbè, abbiamo capito Costruire una piscina per cucinare il pesce, ok? Ma allora, a me è venuto un dubbio Ok Ma secondo te, se cucino a te Che sei un pesce Mi dà la missione completata Scusi, io sono un pirata Non sono un pesce No, è la faccia da pesce Ma tu è la faccia da pesce Potresti essere un pesce bellissimo da cucinare per la quest No, in ogni caso Ho fatto un pochettino di cose fuori dal video Perché dovevamo andare un pochettino avanti Ho notato infatti che c'è qualche miglioria Eh, brava, brava Hai fatto così senza di me E sono arrabbiatissima Ti faccio vedere tutto così mi perdoni? No Va bene, sono stato bravo, sono stato carino Allora, voglio vedere le cose ma non ti perdonerò mai Ok Perché sei una persona terribile Lo sai che non devi fare le cose sotto di me Allora, prima di tutto come puoi vedere Ci sono degli zombie bloccati In gabbia Perché ho fatto una bellissima fence Così non possono venire da noi E secondo me è molto importante E lo zoo di zombie? Sì Ok Perfetto, grazie per avermelo spiegato Ti fanno compagnia Visto che siamo in un'isola deserta E dici dai Ancora non abbiamo l'allevamento di No Non bruciate però, poverini Ma non ci danno fuoco anche a legno, secondo te? No No, non credo, dai Bruciano da soli E vabbè Poi Si sono emozionati perché li stavamo guardando E quindi, vedi Stanno bruciando di felicità Dai, non sei simpatica Non sei simpatica Ma ci sono anche tanto No Ok, poi cosa hai fatto? La casetta senza di me Ah vabbè, hai messo solo la cesta Esatto Apri la, apri la Apri la Perché è interessante Uh Ma hai costruito Stai come se è bello Questo lo metto è bello Fa comodo Sì Così non abbiamo troppi problemi Una scorta di utensili Fa sempre comodo E infine Proprio il clou Quello Il bacino Capisci? Il clou Sì, vieni Ogni tanto inventi parole Che usano per altre cose Uh Eh Fatta tutta È finita Allora Qui possiamo anche Aprire tutto E farci un mega rifugio Esatto Bellissimo Questo mi piace Adesso possiamo scavare tutto E fare questo Quindi praticamente Eh C'è una sorpresa Non sei venuta qua solo per vedere la piattaforma Ma c'è anche un mio piccolo tranello Perché mi voglio divertire Ok Però dicevo Che quindi in questo episodio Costituiremo la piscina Per pescare il pesce E allo stesso tempo Cercheremo di fare la prima base Un po' più figa Ok Ok Sì perché al momento abbiamo solo un buco Detto chiaro e tondo Quindi Non è bellissima Il tranello È che per tornare a casa Devi Infatti dicevo Come devo tornare a casa? Dall'acqua No No Dovete sapere No No Che Fereniki No No Ha qualche problema No No Ha qualche problema con l'acqua su Minecraft E qualche problema diciamo che È dire poco Perché Lei entra nell'acqua Poi inizia a muoversi a casaccio E di solito cade sempre Come quello scheletro Che hai visto L'ho visto dal tuo schermo Dal mio no Ha fatto l'esempio perfetto della mia fine Guarda È stato È stato epico Dai Non è difficile Devi entrarci No grazie E poi tieni premuto spazio e sali No Facci vedere Dai Dai Mi devi far morire Perché mi devi far morire? Ce la puoi fare Ce la puoi fare Dai Forza Salta E poi verso l'alto Vai brava Bravissima Continua 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 Più forte Non riesco a morire Non ce l'ha bisogno Perché poi qua c'erano le scale Eh ma mi sento più al sicuro Capito Vedi è la prima volta Che ce l'ho fatta A risalire una cascata Questo è un momento epico Che bisogna segnare nel calendario Perché io davvero Non ce l'avevo mai fatta Vero che è stato divertente? Perché mi viene il panico Con lo stondo dell'acqua Non so più Dove devo andare Primo testa a casa E quindi cado È ora di dividerci I compiti di oggi Io direi Che tu pensi alla base Dato che ti diverte Sempre a fare la casetta Esatto Quindi devi scavare E prendere Tutto questi materiali E la base la faremo Tutto giù Dove abbiamo messo Appunto le slab Mentre io costruirò La nostra piscina Per andare avanti Con le missioni E sbloccare la nuova Ma prima di fare la piscina Ovviamente dovrò Andare a bisticciare Con quelle due nuove isole Esatto Ti stavo per dire Quello spawn Che facciamo Lo dobbiamo un po' sistemare Sì Bisogna fare qualcosa Allora Io direi che per il rifugio Io butto giù tutto E rifacciamo tutto Ma qua c'è del coal Davvero? Sì Vuoi vedere? Lo vedi? Nascosto Non avevamo visto Non avevo che ci fosse qua Eh neanch'io Ma non me la vedi Che stiamo distruggendo tutto Alla fine è sempre utile Era utilissimo quello Sì ci puoi contare Ti sto un attimo dando una mano Così poi ti metto Appunto le slab Ok E non rieschi di cascare di sotto Perché so che tu Hai qualche problema No non ho problemi Non ne avevo bisogno Grazie Guarda Ok perfetto Perfetto Buco anche qua Così l'ultimo fatto Ed è tutto tappato Quello che c'è sotto Tanto è un pochettino Di materiali Dai non ce ne frega nulla Ok ok Qualcosina già la possiamo sprecare Ogni tanto Eh certo dai Tanto non penso ci sia molto altro di utile Penso che sia anzi Molto più utile L'altro isolotto Quello con lo spawn Esatto Dei mob Guarda il troco al Bello Bello Bene Ce ne stiamo facendo altro Vedi così gratis Di certo schifo non fa Esattamente Allora Io sto facendo la slab Per il primo isolotto Dove dovremmo trovare Credo Il ferro Un po' di ferro e basta Perché secondo me L'altra fonte d'acqua È in quella più grande Dove c'è lo spawn Ok Quindi lì Sarà molto difficile Sono riuscito a fare tutto E scappo Oddio Ciao ragazzi Ok mi vuole ci dare 1v1 1 Stai facendo le sfide con i mob? Esatto Bravo Sono i nuovi scheletri potentissimi Oddio Interessante Non solo ti danno La cobblestone Ok Ma ti danno pure il coal È bello questo Sì 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 Questo è davvero buono Tu quanto coal hai preso lì alla fine? Due Quindi era pochissimo Sì era pochissimo Giusto per dirti di dartene un po' Ho capito Esatto Ho trovato giusto due blocchi E non ne ho trovato altri Anzi dubito che ce ne saranno altri Quindi penso che troverò Cioè Che ci siano solo quelli Ho trovato tantissime andesite Se ti interessa Guarda Hanno già due stack Se ti interessa Guarda Utilissimo No non mi interessava molto Utilissimo Grazie a tutti Ok Abbiamo davvero fatto un intero episodio di Skygrande Dove solo facciamo la nostra base Però è carina Però è carina Molto carina Io pensavo sinceramente che sarebbe uscita una cosa terribile Soprattutto perché non abbiamo molti materiali Ed essendo limitati Non è che li possiamo usare solo per fare l'estetica della casa Però secondo me è molto carina Soprattutto le fence nelle finestre appunto per Esatto Per il fatto che non abbiamo i vetri Almeno le abbiamo decorate un pochettino Anche la forma non mi dispiace Il tetto sempre in slab di legno Sì Vediamo che da qua ci sono le scalette E si va di nuovo Delle altre parti Ovviamente andrà tutto sistemato Ragazzi Certo Prossimo episodio Facciamo la piscina Sistemiamo lo spawn De quella Della nuova isola Che ancora non l'abbiamo fatto E sistemiamo la farm Di semini E di alberi Quindi prossimo episodio Sfiniamo di sistemare tutto Però Boh A me piace fare anche queste cosettine Quindi almeno una bella base Ma secondo me è carino Perché comunque L'obiettivo della skygrind È anche farsi un rifugio Ok ragazzi Ci sentivamo in colpa Per aver soltanto fatto Il villaggio Il villaggio La base in questo episodio La nostra casettina Esatto Quindi abbiamo deciso di registrare Un pochettino Il giorno successivo Sì il giorno dopo Siamo vestiti Infatti diversamente Esatto Giusto per andare almeno Un pochettino avanti Quindi cerchiamo Perlomeno di prendere Le due fonti d'acqua E metterle nella piscina Che abbiamo appena costruito Quindi adesso Ve la facciamo vedere Esatto Abbiamo sistemato un pochettino Tutta la zona attorno Quindi abbiamo fatto Sì Sopra la casa Adesso ve lo facciamo vedere Ci sarà la piscina E anche una Una piccola coltivazione Non abbiamo ancora finito Di sistemare tutto Ma abbiamo pensato Che sarebbe stato molto carino Farlo nel tetto Infatti secondo me Anche a livello estetico È molto molto carino Esattamente Allora Stavo controlando per il secchio Se ricordo bene Servono tre pezzi di ferro Mesi ta 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 Quindi dobbiamo per forza Proprio ta 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 Sì ta 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 Ok perfetto Che spiegazione esauriente Per forza andare nell'altra Qua ci sono delle scalettine Scusi Facciamo vedere bene le cose Esatto esatto Qua ci sarà l'acqua Quindi immaginatevela già E qui ci sarà invece Tutta la coltivazione Ho messo questi alberelli Giusto perché ci serve un punto Un ragno Un ragno Un ragno Oddio Mi ha fatto spaventare Dicevo ma che è che mi sta dando colpi Ok abbiamo detto Sì li abbiamo messi in modo provvisorio Giusto perché ci serve Altra legna Esatto Quindi per ora li abbiamo messi qua Ma poi qua ci sarà la coltivazione E abbiamo collegato tutto Con la nostra vecchia coltivazione Insomma abbiamo fatto così Esattamente E poi c'era un'altra cosettina Che volevo far vedere Però tu sei qua Quindi non la posso far vedere Un attimo Quindi raccogli tutto in modo veloce Io sinceramente per ora i semini Li ripianto pure però no? Sì per ora sì Spostati allora Se ne vada Se ne vada dalla mia piantagione Allora Allora Spostati Signore La smetta di importunarmi Spostati Ok Prima che io ti amare Dicevo comunque Finché non sistemiamo tutto Anche secondo me La cosa migliore è lasciarla qui Tanto questa ce l'abbiamo già pronta Così almeno nel frattempo Continuiamo a farmare i semini Esatto Cosa volevo dimostrare? Allora Qua praticamente Avevamo detto che questo Avremmo abbassato tutto Ma in realtà ho preferito lasciarlo così E ho fatto queste scalette Che collegano nel Mentre stavo schivando le frecce Dello scheletro Che collegano con la base della casa Mi sembra Mi sembra carino Mi ha colpito lo scheletro E l'ho lasciata così insomma Sì è bellino Non è male Piuttosto che distruggere tutto Secondo me era più carino collegarlo La smetti di guardarmi malissimo Allora adesso lo vado a uccidere Ti ho appena salvato la vita Perché? Avevi un creeper dietro C'è un'invasione di scheletri Ci hanno totalmente invasi Ucciso Aiutami Allora Li picchio Li picchio a mani nude Come i veri guerrieri Sì ma non gli andare in mezzo E che devo fare? Uh ho ripreso la spada Perfetto Bravissima Probabilmente di quando sono morta Ok Finito Ce n'è ancora uno Ok Finito La smettete di darci fastidio Grazie No ce n'è un altro Attenta Ti stava andando addosso Aspetta L'ho un mazzo Ma dove finì? Dove finì? Hai fatto cadere? No è passato attraverso il legno Ok Scheletro Sei morto? Non ci sei più? Ok arrangiati Che ti devo dire Che ti devo dire Che brutti momenti Allora Sì assolutamente Io stavo per esultare Ok Perché Aiuto Perché stavi per esultare Qua c'è il ferro che ci serve Uh Quindi io prendo al volo il ferro Qua c'è anche l'acqua Perfetto Prendo il ferro e scappiamo Ok Ok Perfetto Perfetto Ma Aiuto Che ti succede? Aiutami Ma devo venire sempre a salvarti però Io mi chiudo in casa Mamma mia quanti sono Andateveni via 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 Mamma mia Torna in casa Torna in casa Torna in casa Dai 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 Arrivo 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 Ok ho preso pure un blocco di coal che adesso sfrutteremo Guarda Spacchiamo Ok E ci prendiamo il nostro bellissimo coal E adesso mettiamo tre blocchi di ferro a smeltarsi Ok Perfetto 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 Dovremmo averne due qua Ok Sì Giusto Non lo so Allora una delle prossime cose che faremo è organizzare le ceste Andiamo qua E ci prendiamo questa Ok Ok E la mettiamo qui Vedi Ok E in questo momento se tu vedi non è colma Guarda la pozzetta Vedi che vedi l'acqua che si muove Sì Questo vuol dire che non è fatta tutta Ok Ovvero che non è una fonte infinita Ok Infatti qua è finita In parole povere Qua non neanche ce l'abbiamo più Adesso praticamente io vado a prendere l'altra fonte che è qui Aiuto Paura di morire Ma quella è infinita? No Nessuna delle due è infinita Ah nessuna delle due Sono due fonte d'acqua Ma se tu combini due fonti d'acqua Ne crei una infinita Ok Ho capito Ok Queste cose mi confondono Io ti dico la verità Guarda Ok Se tu adesso guardi questa pozza È piena È piena Quindi lì ci sono Quindi se io prendo Vedi che ritorna sempre piena E quindi io adesso la inizio a fare così Ok Ma la lasciamo così È carina Con questa cosa Ti piace? Sì molto Molto è carina Se ti piace Vabbè Allora Ok perfetto Quindi ho capito Adesso abbiamo creato la fonte infinita Quindi questa è la nostra fonte infinita E possiamo riempirci la piscina insomma Esatto Riempiamo la piscina Possiamo eliminare anche quella fonte infinita Perché ne abbiamo appunto una nuova Che è quella della piscina Ok Perfetto Ma qui rimetteremo l'acqua Invece qui sopra Oppure questa cosa di grano La togliamo proprio Aspetta Non mi costa nulla Perché secondo me è carina lasciarla È infinita Per ora la lasciamo Poi Per ora la lasciamo Poi vedremo Esatto Perfetto Devi darmi un attimo Che riempio tutti i lati Così si forma la piscina Bellissima Sto guardando E adesso dovremmo cercare di pescare un pesce Insomma è così che funziona Esatto Bravissima Dobbiamo farci la canna da pesca E provare a pescarla Esatto Cioè proprio ci mettiamo solo qui a pescare Non dobbiamo fare niente di strano E dobbiamo aspettare un sacco di tempo Guarda Vedi che adesso la piscina Non ha più neanche un punto Dove non si muove l'acqua Quindi Abbiamo finalmente la nostra piscina Ma io vorrei dire una cosa Cioè è fantastico Che abbiamo fatto il rifugio La piscina Sopra il tetto Ci assembriamo Capito Una villa di lusso Eh in un posto di lusso Certo È bellissimo Lo so Ok È fantastico Adesso ne abbiamo fatto tutto Ti piace? Molto Molto sì Sono molto soddisfatta Mi piace davvero tanto Lo so che in questa serie Non si dovrebbe pensare Solo all'estetica Però mi piace davvero tanto Sono molto soddisfatta E noi pensiamo anche a quella Eh vabbè dai Scusa Già che ci siamo Perché non fare le cose carine Sì Sono molto molto soddisfatta Adesso Come si fa la canna? Ci piove in casa Mi sono dimenticato questo dettaglio Di mettere l'acqua sopra il tetto Ci piove in casa È stato un errore Un errore Che non dovevamo commettere Allora c'è qualche modo di Tappare No No Neanche se mettiamo un altro stato di slab No E vabbè avremo la pioggia in casa Era così bellino Perché ogni volta dobbiamo fare dei fail? Non può andarci bene qualcosa ogni tanto Allora Allora mi sembrava strano che fossimo riusciti a fare un rifugio carino Anche a me Una bella piscina Una coltivazione carina Ci doveva essere per forza qualcosa che andava storto Cioè per forza Vabbè Vabbè Ci pioverà in casa Che ti devo dire Che ti devo dire Dovevamo per forza fare qualche scemenza Fa parte di noi In ogni caso ragazzi Ci vediamo così Il prossimo episodio Quindi peschiamo E sistemiamo gli spawn come si deve Ci avete dato dei consigli? Ora che abbiamo le fonti d'acqua infinite Possiamo provare a fare degli spawn Fatti come si deve Esatto Quindi nel prossimo episodio proviamo a fare queste cose Vedremo la prossima isola Perché cucinare il pesce Credo che ce la faremo Facilmente nel prossimo video E ci fermiamo così Per ragazzi Vi lascia così Lasciateci un like E se la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao